L'impresa digitale è un'impresa che alla fine conta molto di più, una cosa che si è vista negli anni, mi farò vedere che la parte fisica delle imprese vale sempre di meno e le informazioni contano sempre di più. Vi faccio vedere qualche numero che vi fa vedere quel aspetto. Quindi le risorse che vi mancano sono più risorse di informazioni e di conoscenze che risorse fisiche. Oggi a Schilla parliamo di vendite online, ovvero di cosa le imprese devono fare e come devono agire per riuscire ad utilizzare il cosiddetto canale online. E lo facciamo in un modo che è un po' diverso da quella che è la saggezza comune, quello che viene considerato come la prassi. Ovvero andiamo a vedere come vendere online in realtà voglia dire da una parte è un cambiamento del mercato che non è più lo stesso, che ha una segmentazione, una dimensione, un meccanismo di funzionamento completamente diverso, che richiede una trasformazione profonda delle imprese e soprattutto porta a una trasformazione delle filiere dei vari settori in cui la distribuzione del valore e il controllo dei profitti non segue più la logica del passato ma è a tutto vantaggio di alcuni player che fanno un mestiere di controllo di queste filiere, sono i soliti Google, Amazon e così via. Cercheremo di capire queste regole e cercheremo di capire che cosa può essere fatto e quali sono gli investimenti necessari per poter ottenere i benefici desiderati sapendo che gli investimenti possono essere anche significativi e durare per molto tempo.